Buongiorno Regione, sono le 7.30 di venerdì 23 dicembre. Le immagini che state vedendo e la musica che scorre in sottofondo mi danno l'opportunità di presentare gli ospiti di oggi. Essendo la pre-vigilia di Natale, naturalmente parleremo di Natale, di Cenone, ma appunto vi presento i nostri ospiti. Buongiorno a Sandro Sottile e al suo gruppo. Prima di entrare nel vivo della trasmissione ci vuole presentare i ragazzi che suonano con lei. La Calabria che ci guarda, i ragazzi che sono con me, lui è Manuel Sottile e che suona la chitarra battente. Poi abbiamo Piera Vizza, Danze, Marco Vizza, Percussioni, Tamburello, Tamorre, Mauro Potestio, basso acustico e basso elettrico, all'occasione basso acustico. Franco Villella, chitarra classica e voce, Diego Soda, mandolino, chitarra elettrica, non oggi ma altre volte. Francesco Altomare, oggi mandolino, altre volte mandolongello, chitarra classica, lira calabrese, perché noi abbiamo un parco di strumenti molto ampio. Poi volevo ricordare anche, se non sono presenti qui, Walter Costantino che suona la batteria. Poi volevo ricordare anche il mio amico Gianfranco Scalzo che collabora con noi e questi sono i miei musicisti. Insomma un gruppo nutrito tra l'altro dagli strumenti. E comprendiamo che la vostra è una musica popolare, una musica che si rifà alle tradizioni calabresi, ma che comunque spazia anche in altri ambiti territoriali. Parleremo con voi più tardi, rimanete con noi. Nel corso della trasmissione avremo modo di chiacchierare in diversi momenti. Siamo dai nostri ospiti, che vi ricordo sono Sandro Sottile e il suo gruppo. Di nuovo buongiorno, grazie di essere rimasti con noi. Per il periodo natalizio, sicuramente l'atmosfera natalizia è fatta anche di musica. Lei so che ha prodotto un disco traducendo in dialetto calabrese le canzoni della tradizione natalizia. Il disco è questo qui, ex voto, lo abbiamo voluto intitolare Canti di fede di tradizione. In effetti i brani che contiene variano per quanto riguarda il meridione d'Italia. Quindi ci sono brani rielaborati sempre da noi, del napoletano, Sicilia e pure Calabria. Quindi tutto il meridione e non solo panorama calabrese. Non solo calabrese, fatti con gli strumenti che ci offre la nostra regione, questi strumenti che noi portiamo in giro anche nei nostri concerti estivi, i quali appunto la chitarra battente, la lira calabrese, i tamburelli. E poi vedo vicino a lei una zampogna. Per quanto riguarda questo periodo qui la zampogna, che è appunto lo strumento per antonomasia, diciamo, natalizio del sud d'Italia, in particolare della Calabria, questo strumento che abbiamo qui. Sentiremo suonare un'esibizione più tardi. Noi andiamo per il momento avanti, grazie per il Perora. Senza esseri chiamati, siamo venuti, siamo venuti. Cali, pagiù, nebbia, venivo e portalo. Cali, pagiù, nebbia, li, ponciù, va, tendi, diri, diri, la, la. Un tempo della scena è divenuto, è divenuto.